Sono Valentina Spirito, ho 38 anni, quindi classe 1979. Sono titolare di un'azienda insieme a mio fratello, le Grafiche Fratelli Spirito, un'azienda storica nel territorio savonese, fondata nel 1875. Ci occupiamo di arti grafiche. La nostra è una litografia. Stampiamo di tutto, dal prodotto commerciale al catalogo d'arte, ma siamo specializzati in prodotti ad alto livello qualitativo. Gli obiettivi miei personali sono quelli di cercare di far partecipare di più i ragazzi iscritti e chiaramente cercare di prendere nuovi iscritti dal bacino dei senior, che comunque è abbastanza ampio. Io sono iscritta al gruppo giovani da una decina di anni e da altre tanti partecipo al TriReg, che è il comitato che organizza il convegno, che è sempre stato a Santa Margherita e quest'anno è diventato di Rapallo. L'appartenenza a questo gruppo mi ha dato la possibilità di venire in contatto con problematiche a livello nazionale e regionale, quindi non solo della nostra provincia, e soprattutto di conoscere persone con cui condivido le problematiche lavorative, ma soprattutto con alcune di queste ho avuto la possibilità di stringere degli ottimi rapporti sia di amicizia che di collaborazione. Consiglio a tutti gli iscritti di partecipare a TriReg e soprattutto al gruppo giovani di Savona.